mi dicevano era tutto sbagliato che era tutto un fallimento che era tutto non lo so ma io avevo programmato di andare in vacanza invece mi trovo in una microscopica isola isola un mucchietto di sabbia in mezzo all'oceano indiano dove ci sono distese infinite di sabbia bianca cristallina squali tartarughe marine granchietti tu vai in un'isola metti l'indirizzo e ti ritrovi qua isole su isole paradisi su paradisi zone incontaminate del mondo che fino a ieri non sapevi nemmeno che esistessero adesso ci sei qua zone che vedi magari in cartolina su internet e dici con la scritta un biglietto di sola andata per qui in cava e amica c'è solo queste da vedere e ce ne sono tante di cose da vedere poi non pensate che sia tutto facile mi sono staccato per nuotare 20 metri per arrivare qua quindi se non le voglia neanche di nuotare resta a caso è dura eh 15 giorni di vacanza e me ne mancano ancora 45 in Thailandia non ce la posso fare ma tocca che cazzo è quella cosa è una merda grande secondo lui è un castello secondo me è un cesso adesso vengo a cagarti la tua opera d'arte oh hai mai cagato in mezzo all'oceano indiano grande sto arrivando certo certo comunque è stato un piacere e che cazzo c'ha voglia di nuotare a piedi per arrivare niente a me a me ce la faremmo ce la faremmo